Una giornata di dolore e interrogativi. Nella camera ardente, due giovani ragazze, Patrizia Doros e Bianca Cormos, vestite da sposa secondo la tradizione romena, sono state piantate dalle lacrime di amici e familiari. Michaela, la madre di Patrizia, si chiede con voce rotta se sua figlia avrebbe potuto essere salvata invece di essere filmata nei suoi ultimi momenti di vita. Christian, un amico delle ragazze, è ancora disperso, aumentando l'angoscia di una comunità già profondamente scossa. La tragedia ha preso una svolta inaspettata, da semplice fascicolo informativo, le indagini sono ora un'inchiesta per omicidio colposo contro i gnoti. Patrizia aveva chiamato disperatamente il 112 quattro volte in mezz'ora, ma l'ultima chiamata non ha ricevuto risposta. La domanda che tutti si pongono è perché i soccorsi non sono scattati subito? I corpi di Patrizia e Bianca, morti per asfissia da negamento e traumatismi vari, sono stati ritrovati, ma la ricerca di Christian continua. Oggi, dopo il rito ortodosso, le due ragazze saranno trasferite in Transilvania per la sepoltura. Michela non chiede giustizia, ma una maggiore prontezza nei soccorsi, vorrei solo che non fossero morte in vano, magari che si fosse più pronti a salvare le persone, con meno autorizzazioni. Patrizia era una giovane donna piena di vita, che studiava, lavorava e sapeva divertirsi. La notte prima della tragedia aveva studiato fino alle quattro del mattino per poi affrontare un esame alle sei e mezza. La chiamata alla madre per ottenere il permesso di andare all'agua a Premaricco sembra ora un triste presagio. Le sue ultime parole, facciamo una passeggiata, un po' di foto, e poi torno a dormire, restano impresse nella memoria di chi l'amata.